ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo video diciamo voglio dirvi non so se mi conoscerà però io ti voglio un canale che ho cancellato perché volevo cancellarlo e me ne sono fatto un altro dopo un po' di tempo perché volevo ricominciare avevo pochi iscritti, circa 30 e in questo canale ho cambiato anche nome adesso sono Goz perché mi piace questo nome l'ho sempre evoluto e adesso l'ho fatto e in questo canale più o meno sarà queste cose da l'altro scorso canale più o meno facevo qualche giochetto ma questo canale qua ci saranno tipo come gli altri video che c'erano tipo qualche trailer come oppure anche ho messo anche il video della top 10 che ho fatto io rapidamente e più o meno questi video qua saranno di di che spero che il video vi abbia fatto capire cosa farò e alla prossima ciao